l'abruzzo è bello come dice un famoso politico italiano che ovviamente per chi è italiano non lo conosca è molto preso in giro per il suo modo di parlare allora in questa lezione parliamo appunto della regione di quel politico l'abruzzo come sapete abbiamo già visto parecchie regioni e questo è il momento ovviamente di spostarsi sempre di più verso sud l'abruzzo ovviamente come dice lui è veramente bello è una regione bellissima e parto con la lezione sull'abruzzo allora l'italia è divisa in 20 regioni tutte bellissime ma molto diverse tra loro italiano per tutti vi accompagna alla scoperta delle regioni italiane per farvi conoscere meglio il loro territorio e le loro caratteristiche fondamentali vi faccio vedere che l'abruzzo è proprio in questa posizione qui quindi siamo nella nell'italia centrale ci stiamo spostando verso l'italia meridionale l'abruzzo l'abruzzo allora l'abruzzo è una regione dell'italia centrale affacciata sul mare adriatico la sua storia però è sempre stata legata a quella delle regioni dell'italia meridionale il nome abruzzo sembra derivare dal nome petruzzi petruzzi una popolazione che viveva nell'area dell'attuale provincia di teramo teramo è una delle dei capoluoghi di provincia dell'abruzzo e poi vedremo l'elenco dei capoluoghi il capoluogo di regione dell'abruzzo invece è l'aquila quindi è la città dove c'è l'amministrazione regionale della della regione gli abitanti di questa regione si chiamano abruzzesi con due z abruzzesi il territorio dell'abruzzo è costituito soprattutto da montagne e colline e in questa regione si trova il gran sasso il gran sasso è un massiccio montuoso quindi è un insieme di montagne e un insieme di montagne in italia in italiano si chiama massiccio ce ne sono diversi di massicci in italia più grande ed è il massiccio quindi al gruppo di montagne più grande di tutta la catena degli appennini gli appennini sono quella regione che quella regione scusate quella quella catena montuosa che parte da l'italia diciamo settentrionale siamo intorno alla liguria diciamo che in liguria ci sono gli appennini quindi la liguria settentrionale la parte nord della liguria e è praticamente la spina dorsale dell'italia e quindi si muove questa catena fino al sud in questo caso stiamo dicendo che il gran sasso è la parte montuosa il gruppo montuoso più alto di tutta quella catena montuosa italiana quindi ricordiamo solo alpi al nord nella parte diciamo settentrionale proprio la parte dove ci sono le dolomiti dove c'è la valle d'aosta abbiamo già visto queste regioni e gli appennini sono la colonna vertebrale dell'italia l'abruzzo è considerato la regione verde d'europa per la ricchezza della sua vegetazione e l'abbondanza di aree incontaminate incontaminate significa che non hanno non sono ancora state contaminate in qualche modo dall'inquinamento dai diserbanti dagli inquinanti chimici di qualsiasi tipo e quindi è quella che è soprannominata regione verde perché è ancora lo stato naturale come ormai ahimè pochi territori in italia in non solo in italia anche in europa e nel mondo in questa regione si trovano tre parchi nazionali ricordiamo il parco nazionale d'abruzzo il parco regionale naturale e numerose aree protette e oasi l'abruzzo è una regione con una bassa densità di popolazione la densità di popolazione sono il numero di abitanti per area territoriale di solito sono il numero di abitanti per chilometro quadrato quindi un'area di un chilometro quadrato è l'analisi di quante popolazione risiede e abita in un chilometro quadrato ovviamente faccio un esempio una zona montuosa ha una densità molto bassa di popolazione una zona come milano come roma ha una densità di popolazione molto alta perché per chilometro quadro vivono più persone quindi l'abruzzo in realtà è poco popolato nella sua ampiezza pochi pochi abitanti per chilometro quadro i centri abitati più popolati si trovano nell'area costiera sudorientale mentre il resto del territorio è occupato in prevalenza da boschi foreste abazie castelli e piccoli borghi questa è anche una delle regioni italiane con il più alto numero di luoghi inseriti nell'elenco dei borghi più belli d'italia diciamo che è un elenco al quale per il quale molti borghi e molti diciamo cittadine italiane devono avere particolari caratteristiche possono ovviamente fare la richiesta di iscriversi per diventare per diventare diciamo parte di quell'elenco e quindi ovviamente essere identificati come tra i più belle tra le più belle cittadine o borghi d'italia e quindi in questo momento in questo caso se vengono selezionate possono essere messe in quell'elenco perché è abbastanza diciamo prestigioso essere presenti nella nei borghi più belli d'italia la regione popolata da una fauna locale molto ricca animali tipici del territorio sono ad esempio il camoscio d'abruzzo l'orso bruno marsicano che è quello che vedete qui sopra in foto il lupo appenninico il gatto selvatico l'aquila reale e il inibio ovviamente questi sono gli animali la fauna quindi le specie animali più importanti e speciali della 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 regione però ovviamente convivono con molte altre specie oltre a l'aquila quindi la città in questo caso le altre città importanti della regione abruzzo sono chieti pescara e teramo l'economia abruzzese molto ricca ed è basata principalmente su agricoltura allevamento e pesca e importante anche la produzione di energia idroelettrica cioè l'energia elettrica prodotta dalla dall'idro cioè dall'acqua quindi centrali idroelettriche che producono tramite turbine siccome abbiamo detto che è montuosa quindi ci saranno dei fiumi dei laghi che portano a valle l'acqua e questa acqua è incanalata nelle turbine per produrre corrente elettrica tra i prodotti tipici della regione ricordiamo lo zafferano quello che fa diventare diciamo fa diventare giallo il riso quando mangiate il riso lo zafferano il riso diventa giallo proprio perché viene aggiunto questo questo fiore che ovviamente viene trattato e ovviamente cercate la dei dettagli sullo zafferano perché è importante capire la produzione e quanto costa lo zafferano e quanto ovviamente è difficile da produrre e quanto poco se ne produce per pianta questo è interessante ricordiamo dicevo lo zafferano la liquirizia i fichi il tabacco l'uva da tavola cioè quella che non si usa per produrre il vino ma è mangiabile non è non è utilizzabile per per la produzione di vini ma è più buona da mangiare le barbabietole per produrre lo zucchero solitamente e le patate ok questi sono i prodotti delle della regione abruzzo e concludiamo questo questa lezione questa breve lezione per descrivere la regione abruzzo spero che vi sia piaciuta se avete domande o qualche altra curiosità come fate sempre scrivetemela vi ringrazio per la vostra attenzione vi dico sempre di andare su facebook twitter youtube dove probabilmente mi starete guardando vita per tutti punto blogspot.com come sempre vi chiedo un like o un seguimi sul sul canale ci vediamo nelle prossime lezioni di italiano per tutti ciao